ciao amici e collezionisti amanti al topolino e questo oggi un breve video reazione al taccuino di Corrado Mastantuono albo o meglio prodotto perché di fatto lo vedremo particolare che non possiede esattamente come l'anno scorso ho un video dell'amico luca da poterlo commentare dare un'idea anche sfogliandolo virtualmente con lui su quello che il prodotto in questione insieme al taccuino a quanto pare c'era anche questa bella litografia molto bella si vede subito che è di Mastantuono ma particolarissimo il modo in cui viene colorata sembra acquarellata molto molto carina però sicuramente il piatto importante poi è il taccuino che io non compro per un motivo di non interesse ma sicuramente molto valido fecero l'anno scorso Cavazzano e aspettiamoci prossimo a qualcun altro potrebbe starci benissimo chiunque frecciero in particolare questo come si presenta molto elegante costo mi sembra 25 euro ma lo ritengo uno dei prodotti più interessanti del mondo Disney di oggi non solo nel mondo del fumetto per quanto io proprio non lo compro perché non mi interessa così si apre con questa bella illustrazione direi inedita dell'autore per poi esserci una prefazione Mastantuono è un grande Mastantuono è l'autore che io disegnai personalmente come il migliore in assoluto degli ultimi penso 30 anni non può paragonarsi a Scarpa ma per motivi di epoca differente neppure a Carpi Bottaro ma Mastantuono per me è il migliore per tante ragioni guardate che disegni in primis perché è un disegnatore abilissimo potete notare Mastantuono è il disegnatore che io conobbi anni fa senza che lui usi la gomma lui disegnava davanti a me mi fece un bellissimo ok quack qualche anno fa senza usare la gomma manco dire un po' di gomma pane no niente direttamente matita schizzato e poi con la china ma nell'arco di 10 minuti una cosa velocissima impressionante quindi l'autore che non usa la gomma per me fa capire quanto sia forte e poi perché è anche sceneggiatore secondo punto lui è un autore completo non solo di Paperi di Topi ma anche di Landog di Magico Vento insomma un autore formidabile che spazio dal reale al surreale da un papero a un umano le sue copertine sono bellissime io non compro il big perché una testata estremamente scomoda un ristampone per quanto curato tra virgolette nella selezione storie non mi interessa ma le copertine sono spaziali tra le più belle copertine mai viste le ha fatte Mastantuono sul big ma anche sul pk giant ecco non mi ricordavo Mastantuono avesse avuto anche questa possibilità quindi conosce anche un po pk non c'è personaggio di topi o paperi che non sa onestamente disegnare tra l'altro anche mister vertigo io mi ricordo nelle varie manifestazioni in cui ho visto gli autori generalmente quando chiedi un personaggio un papero un topo secondario o comunque poco conosciuto giustamente l'autore ti chiede la foto di esso cosicché da poterlo interpretare copiare o avere qualche spunto Mastantuono quando gli chiesi ok quack non fece nessun tipo di commento va bene te lo faccio ma come a dire io non conosco personaggio ma io so chi è non l'ho mai usato eppure lo so disegnare grandissimo il paper sera la nuova serie che sta portando avanti in maniera più che egregio l'autore completo questa bellissima cover che non mi ricordavo pensavo fosse di Mastantuono ma a quanto pare lo è di appunto di questo autore e sì ma pensavo fosse di Pastrovicchio onestamente invece di Mastantuono spaziale anche con le figure vintage retro mickey mouse mystery magazine vero non mi ricordavo questo in particolare per il disney omnibus quindi in realtà per la ristampa la prima poi ce ne fu una seconda quella più recente guarda che che spettacolo topolino è bellissimo per me sapete il colore aiuta guardate nell'immagine di destra ma vederlo in bianco e nero ancor prima di essere chinato un disegno cioè come in questo caso ancor prima di essere inchiostrato ma solo con la matita più calcato più leggera è spettacolare quando l'autore con un tratto molto fine con un tratto molto deciso decide di puntare sulla pioggia sui sipari su questi dettagli di luci ombre c'è poco da dire questo è un prodotto perché chiamarlo fumetto non lo è ma è un prodotto è un albo veramente per intenditori per appassionati del fumetto dell'autore io anche lo sono non a tal punto però di spendere questi soldi per questo prodotto veramente meritevole che può essere ripeto l'inizio di una lunga serie di tacquini cavazzano mastantuono e chissà guarda che tavola questa questa è spaziale questa questa è bellissima io io pensate trovo affascinante anche solo i balloon così perfetti e trovo veramente carini e poi di fatto lo spiccato dettaglio che mastantuono inserisce nei vari disegni impressionante perché poi sai noi vediamo i disegni rimpiccioliti in formato a 5 su un topolino quando poi la tavola è ancora più piccola dimensionata rimpicciolita ecco ma in realtà le tavole sono grandi a tre e potenzialmente ogni vignetta è colma colma di dettagli perlomeno quando mastantuono e sia la sceneggiatura che al disegno cosicché da poter fare quello che vuole non è famoso per il modo in cui mette le vignette sono abbastanza scorrevoli l'un con l'altra ci sono disegnatori che spaziano molto di più charlone o di polito per esempio ma mastantuono non ne ha bisogno per quanto lui usi solo tra virgolette rettangoli e quadrati come vignette e poi qualche splash page sono comunque bellissime ve lo dico io che amo casti alla follia cioè io di casti ho tutto e anzi piccolo spoiler avrò anche di più nei prossimi tempi ma mastantuono lo ritengo anche migliore di casti oggettivamente autore completo disegnatore paperi topi bonelli e non solo può fare tutto può fare quello che vuole guarda che roba capite il colore a cosa serve per dare profondità per dare vividezza al disegno ma guardate lo stesso in bianco e nero è un'altra cosa lo preferisco almeno io puoi ammirare di più quello che è il suo stile guarda anche come con la penna nera col pennarello ha delineato le ombre nelle orecchie io non riuscirei neanche a fare quello ma neppure neppure ricalcandolo perché è solo la sua mano che può fare così ma bellissimo cosa ho visto ecco un big io avrei messo però quella di paperino che guarda il cielo molto recente nel prato fiorito oppure quella di topolino che guarda da dietro un quadro molto moderno chissà magari c'è ma avrei messo quelle lì e sa fare anche questo mastantuono mastantuono come già visto prima riesce a prendere anche personaggi conosciuti a trasportare nel passato perché ha questa qualità vintage moderno mezza età mi sa fare tutti e sa anche colorare a meno penso che sia quello penso che sia del suo il colore che spettacolo ma anche se non lo fosse guarda qui il disegno a farla da padrone questa immagine bellissima sulla poltrona non so da dove arriva perché non c'è un contesto ma meraviglia queste sono tutte copertine sono tutte copertine guarda ecco purtroppo possiamo capire una cosa che sotto il logo big non c'è niente quindi l'autore deve ovviamente immaginarsi il disegno con il logo che poi viene inserito e che ogni volta è lì che scrive ma in realtà poi lui lo fa ma viene poi appiccicato in maniera digitale però questa è una curiosità ecco sono bellissimi disegni e poi illustrazione finale questa ritografia e questo paperinic bellissimo bello 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 cosa di di fenomenale peccato che stia finendo l'albo perché è uno di quei di quei autori che meriterebbe di essere ristampato qualsiasi illustrazione qualsiasi disegno qualsiasi sketch mi dispiace ripeto che del big ci sia ben poco ma lui dal meglio in quelle copertine anche perché ha libertà creativa evidentemente bumbunghigno ecco ricordiamo lui è anche un personaggio inventato da mastantuono quindi non solo sceneggiatore non solo ma anche creatore soggettista guarda con amelia guarda che chiaroscuro guarda che grigio anche il corvui non riuscirei a farlo così bene gennarino bastanto uno ci riesce ora non so come c'è la carta perché a vederla come una sfoglia a vedere un po la vibrazione magari non è delle migliori cioè il postcard collection che uscì qualche giorno fa prodotto che non consiglio se non per veri appassionati ha una carta veramente spessa ma molto molto spessa quello mi sembra molto più sottile invece rispetto a questo ecco l'immagine che io avrei messo di mastantuone è questa comunque guardatemi qua un attimo questa è l'immagine poi immaginatevi qui il logo big ok è l'immagine più bella che io abbia mai visto in copertina è la mia preferita in assoluta con paperino con topolino invece quella che lui guarda dietro se mi ricordo ve la lascio qua davanti a me un quadro moderno però guarda che bel disegno pure questo peccato non leggere il riferimento ma magari c'è in fondo anche durante natale anche con come si chiama gancetto anche personaggi estremamente secondari lui riesce a farli senza problemi wow ecco che questa qui molto bella di con topolino il sole diventa buio bellissima dietro questo topolino tutto nero in ombra qualche studio di personaggi lascio a voi la visione perché ho perso le parole ma guarda anche come riesce a fare benissimo il personaggio che non è topo papero ma è più un umanoide perché lo sa fare d'altrune se lavora pure per bonelli ci sarà un motivo qua tutti gli studi dei personaggi più recenti dell'ultima sua serie sul papersera news wow anche dei reti di tavola veramente non si può dire nient'altro è un prodotto che stuzzica chiunque eccetto me a me piace guardarlo in questo modo forse sono strano però poi 25 euro li spendo in un'altra maniera personalmente personalmente ma se dovessi dire compratelo meno si fatelo questo forse gliel'ha fatto per luca non lo so uno sketch fatto apposta per lui carinissimo lui disegna in maniera molto rapida ma estremamente precisa l'ho visto dal vivo cosa dire un album prodotto che definirlo meritevole è troppo poco è troppo poco poi sono strano non lo compro in realtà non mi ha scelto mi interessa a me interessava solo commentarlo per darvi un'idea essendo questo un canale di riferimento per tanti appassionati ecco questo è uno sfoglio al libro integrale di quello che possiede ora non so se qualche pagina mancava o meno durante lo sfoglio quindi sono 50 60 pagine massimo estremamente interessanti prima di terminare abbiamo ancora un minuto di video c'è questa cartolina di donald back 90 che probabilmente veniva legata a un tot di spesa all'interno del luca comics poi lui mi disse che effettivamente gli viene anche dato questo bellissimo album le vacanze di donald in cui si è fatto ecco anche sketchare da bertolucci io purtroppo non riusci a farmelo fare anni fa ma questo è un album già che si conosce prima ancora in francia poi in italia è bellissimo senza di da scalì è molto espressivo e bertolucci ha fatto la scena muta per la storia muta per eccellenza per quanto tutti noi penso adoriamo faccini o anche massatuno stesso perché massatuno ricordiamolo è anche creatore di storie mute con bumbunghigno recentemente che non mi fanno impazzire perché non si capiscono tanto alla prima cosa che la storia muta dovrebbe fare in maniera immediata però bertolucci secondo me ha guidato il massimo di sé per una storia tra l'altro anche molto lunga e visivamente incredibile tra l'altro con personaggi più animali che umani quindi con orsi e vari uccelli veramente spaziali io questo album ce l'ho in francese e me lo tengo in quell'edizione per un motivo di cartonatura e poi anche di telatura anche di dimensioni e perché ce l'ho tutto in francese e faccio prima ed è la versione originale c'è ancora qualcosa? sì me lo disse ecco qua il volume su pk che io non condivido minimamente il fatto che abbia la copertina identica a quella della variant cover cioè un minimo dai anzi addirittura la stessa copertina ma senza effetto perché riproporre l'effetto è stato impossibile sarebbe stato impossibile ma almeno cambiata la mettetela più luminosa più accesa no identica purtroppo questo è un problema di paglini comics recentemente che preferisce stampare gli albi con copertine già edite peccato e poi appunto piattoforte di quest'album non è tanto le storie che sono appena uscite ma voleva mostrarci il suo sketch di pastrovicchio dunque il video finisce qua sul taccuino nulla nulla da dire compratelo perché insomma o meglio l'idea ve l'essate fatta il mio commento lo conoscete io non lo prendo ma tentenno invidio chiunque lo abbia in maniera sana perché poi se lo volessi comprare me lo comprerai anch'io sicuramente se dovesse uscire e sono sicuro che uscirà il problema è che se ne uscì uno l'anno è un po' poco ma dovesse uscire quello di casti lo prenderò non solo uno ma addirittura due paini comics segnati questa frase io comprerò due taccuini di casti quindi non solo un cliente ma mi sdoppio perché ne comprerei uno da tenere chiuso se è possibile sigillato e un altro da farmi firmare da casti perché sarebbe qualcosa che incorona un po' la carriera di un artista Cavazzano l'anno scorso ma sono solo quest'anno e speriamo che a cadenza non più annuale ma semestrale perché no magari per la fiera di aprile maggio e poi per lucca ancora qualcun altro dai sono prodotti estremamente curati pregiati e non da tutti veramente interessante grazie luca e alla prossima ciao ciao